Era gremita ieri pomeriggio la sala Carlo Liviero dell'Istituto del Sacro Cuore di Città di Castello, che ha ospitato il Vescovo Antiandrangheta. Monsignor Giancarlo Brigantini, raccogliendo l'invito dell'Associazione Alto Tevere Senza Frontiere Onlus, ha tenuto un incontro dal titolo Una Chiesa Non Indifferente. L'ospicio è stato proprio quello di una chiesa che sappia prendere una posizione forte di fronte alle tragedie sociali del nostro tempo, tragedie come quella della criminalità organizzata che il Vescovo per anni si è trovato ad affrontare. Infatti Giancarlo Brigantini, attuale arcivescovo di Campobasso, per 13 anni è stato Vescovo di Locri, nella difficile terra dell'Andrangheta, dimostrando un impegno pastorale civile instancabile nella lotta alla cultura mafiosa per risvegliare le coscienze e restituire dignità e speranza ai giovani di quella terra. E proprio ai giovani torna sempre il suo pensiero, l'augurio migliore che posso fare loro, si domanda, che non perdano mai il sorriso perché quella è la morte della speranza e la vittoria del male. Una vera e propria missione insieme a quella pastorale e quella della lotta antimafiosa che ha sempre combattuto su due fronti, il piano etico e il piano estetico. La miglior forma di antimafia è il gusto del bello, afferma Monsignore, ricordando come la bellezza sia dell'operato umano che della natura ci riconduca sempre all'amore di Dio. La conferenza si inserisce nel ciclo contatti, incontri, confronti e proposte che proseguirà nei prossimi mesi per creare momenti di riflessione e dibattito insieme a persone che, come Monsignor Bregantini, hanno speso la propria vita impegnandosi concretamente nella società e al servizio degli altri.